Inter tre, Cremonese uno, si chiude così la nostra partita, gol di Correa, Barella, Lautaro Martínez e poi nel finale purtroppo un super gol di Okereke a macchiare una prestazione che avremmo voluto coronare con un bel clean sheet finalmente chiudere una partita senza prendere gol da sempre fiducia e sarebbe stato bello ecco poter chiudere anche oggi senza prendere gol invece gran gol di Okereke nel finale che macchia leggermente una partita vinta bene dall'Inter. Simone prima di entrare nel dettaglio di cosa è successo dentro questa partita ti do questo flash contro la Lazio la settimana scorsa ho parlato di forse anche un eccesso di nervosismo da parte di alcuni giocatori e non solo oggi è stata una partita che nel bene e nel male mi ha trasmesso serenità questa è la parola che un po' mi porto dentro per come l'Inter ha affrontato questa gara. Anch'io 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 perché potevano esserci mille motivi per palesare ancora un po' di nervosismo a partire dalle ultime notizie sul fronte mercato invece e poi ecco aggiungo anche la partita poteva in qualche modo essere portatrice di qualche criticità in più invece l'Inter l'ha sbloccata peraltro dopo dieci minuti e quindi questo ha aiutato però sono d'accordo ha trasmesso una certa serenità è stato dato spazio anche ad altre a delle seconde linee che allo stesso modo sono entrate bene chiaro non potevi diciamo non potevi portare nessun risultato che questo francamente soprattutto dopo aver perso a Roma con la Lazio e prima di un derby però insomma non era così scontato ecco come dicevi tu perlomeno una vittoria così rotonda quindi questo sì e devo dire che è un bel punto di partenza in vista proprio del derby di sabato. Vittoria obbligata non scontata anche perché eh dicevamo arrivava una cremonese adesso tutti quanti a dire eh ma è la cremonese è la cremonese sì è la cremonese però devo dire che rispetto allo Spezia per esempio ma anche rispetto a tante altre squadre non neopromosse eh mi ha dato l'impressione di essere una squadra che porta qualcosa di più interessante in questo campionato è venuta con la propria personalità a giocarsi questa partita lo ha fatto bene ha creato dei presupposti anche per andare in gol tant'è che come dicevi tu Simone un gol per la mole comunque di gioco creata lo ha anche meritato sostanzialmente per come comunque è riuscito a crearci delle preoccupazioni dietro diciamo che però dall'altro lato io stasera mi sento di dare i giusti meriti all'Inter di aver saputo leggere la partita perché eh con qualche difficoltà difensiva e poi adesso magari ne parliamo il terzetto difensivo composto da screener De Frey e Di Marco io sto continuando a vedere un De Frey sempre in crescita nonostante questo però anche un screener uno screener decisivo ha parato praticamente un gol fatto ehm però gli equilibri non sono ancora perfetti siamo andati in alcuni casi soprattutto nel finale un po' troppo non dico in difficoltà però qualche cosa a livello di equilibri di distanze non è ancora calibrato al cento per cento secondo me quindi loro hanno creato forse qualche rischio potenziale in più rispetto a quello che mi sarei aspettato l'Inter però secondo me ha saputo diciamo soffrire o meglio dire gestire la partita e poi ha punito in contropiede finalmente cioè spesso ci siamo lamentati di come quest'Inter fosse costretta a creare una mole di gioco enorme prima di poter arrivare al gol nella partita di stasera è bello segnalare come siamo riusciti a costruire praticamente le azioni da gol con eh due passaggi e dritti in porta Simo Sì è stato un Inter per certi versi inedita nel senso che appunto eh in difesa hai detto bene qualcosina ancora da registrare soprattutto ad inizio ripresa quando loro hanno cambiato modulo inserendo Zanimacchia sono passati dal 3-5-2 al loro più comune diciamo 3-4-1-2 e lì qualche cosa di qualche difficoltà ce l'hanno ce l'hanno portata soprattutto nei cross eh con l'attacco al secondo palo era anche una difesa non completamente titolare appunto perché c'era Di Marco e sappiamo tra l'altro quanto Di Marco stesso abbia qualche limite difensivo quindi questo sicuramente è da migliorare sono d'accordo per il resto ecco eh non abbiamo visto una mole di occasione la solita mole di occasioni infinite che l'Inter l'anno scorso soprattutto creava il giusto numero direi perché comunque abbiamo tirato diverse volte in porta non è una partita dove secondo me spicca il dato dei tiri totali come notevolmente più alto dei gol fatti e questo spero che diventi sempre più la normalità perché era normale la condizione precedente ecco assolutamente assolutamente sì eh il gol quindi come detto è una grossa pecca purtroppo ancora troppi gol subiti Simo leggo tanti commenti contro Andanovic eh più che altro sempre il discorso torna sempre lì il fatto che non si tuffi diciamo eh porta molti a dire nemmeno ci prova eh io non ho ammetto di non avere ancora avuto modo di vedere se fosse effettivamente parabile a me sembra un un tiro sul quale c'era non molto da fare forse ecco un tentativo di parata me lo sarei aspettato però non non ho ancora visto bene il replay quindi non so bene com'è andata ti chiedo se ci puoi riassumere un po' le azioni principali per chi eh non avesse perso la partita non avesse visto la partita e poi dopo ehm diamo anche un po' di giudizi sui singoli sì nel primo tempo dicevamo l'Inter è partita subito forte con una punizione di Di Marco dopo solo due minuti che è finita fuori di poco la sbloccata dopo undici con un contropiede eh che nasce da un calcio d'angolo battuto molto male obiettivamente dalla Cremonese che l'Inter però eh ribalta nella maniera corretta con l'azione un'azione molto pulita in cui Correa finalizza nel primo tempo ci sono giusto un paio di azioni nemmeno troppo pericolose dalla Cremonese dove Andanovic appunto si fa trovare pronto una volta in uscita e una volta con una respinta eh un paio di situazioni pericolose ma non troppo anche per l'Inter e poi arriva il gol clamoroso di Barella con quel tiro al volo da fuori che è magico veramente il suo assist di Celanoglu. Nella ripresa i primi i primi venti minuti un quarto d'ora venti minuti la Cremonese come dicevo anche prima ha dato qualcosa qualche grattacapo all'Inter soprattutto sui cross. Io ricordo diversi cross in cui in area adesso non ho diciamo le immagini sotto ma mi dava la sensazione di avere addirittura un uomo in più proprio come presenza soprattutto sul lato dei bolli rispetto a dove partiva la palla. In un paio di occasioni abbiamo rischiato in una in particolare con Screener che ha fatto un salvataggio sulla linea o quasi e finiti quei primi quindici venti minuti poi la Cremonese ha fatto ben poco e l'Inter invece qualche occasione in più l'ha creata soprattutto al settantatresimo. un triplo tiro il Dzeko Dumfries Lautaro che poi si conclude con una palla alta e poi al settantaseiesimo il gol di Lautaro molto molto bello con il questo sinistro una rasoiata alla sinistra di Radu che anche lì non si tuffa e anche quello era un tiro abbastanza imparabile tra le altre cose e quindi lì sostanzialmente si chiude la partita poi nel novantesimo arriva il gol di cui parlavi prima su cui per la cronaca mio punto di vista non può fare assolutamente nulla chiaro 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 Lautaro diciamo un gol da centro avanti vero secondo me lì regge bene l'urto l'impatto scappa alle spalle del difensore poi batte Radu molto bene per chiudere questa clip poi dopo ci saranno le pagelle a parte se devo segnalarti un po' di miei singoli poi mi dici se sei d'accordo se segnali qualcun altro Correa ben il gol perché mi aspetto molto da Correa ed è molto importante mettere Correa con continuità e dargli fiducia però non è stata una prestazione clamorosamente scintillante mi mi aspetto sempre qualcosa in più però bene intanto che abbia segnato che si sia fatto trovare pronto quindi continuità e lo aspettiamo nelle prossime Barella per me prestazione oggi top assoluta per distacco migliore in campo personalità in mezzo al campo gol super assist veramente prezioso sull'azione di Lautaro Martinez ma anche in occasione del gol è lui che avvia l'azione e poi la chiude pure con il gol al volo molto molto bene su assist di Ceranoglu Lautaro è entrato bello aggressivo in palla mi è piaciuto molto Dzeko l'ho visto con qualche errorino di troppo ma ha lottato molto mi è piaciuto lo spirito di Edin Dzeko oggi perché ha dato molto fino all'ultimo quindi bene così sicuramente soprattutto alla luce dell'assenza di Lukaku è importante che Dzeko risponda presente in questo modo Di Marco è un altro che secondo me pur palesando ancora qualche limite dal punto di vista difensivo ma lo sapevamo però siamo dall'anno scorso diciamo queste partite in casa sono partite in cui Di Marco va a nozze secondo me e ogni tanto spaccava gli equilibri dell'incontro si faceva trovare anche sul sulla tre quarti quindi mi è piaciuto molto da questo punto di vista e segnalo un Brozovic sicuramente un altro Brozovic rispetto alla sfida contro la Lazio De Frey l'ho già detto Ceranoglu è evidente quando c'è Ciala a fare da raccordo tra i due parti piuttosto che Gagliardini senza diciamo nulla volere da Gagliardini ecco è un'altra cosa questo è un po' per quanto riguarda i singoli Darmiano è l'unico forse un po' più in ombra non per colpa sua ma si è giocato veramente poco da quella parte sì e poi lo dicevo anche all'intervallo essendo un destro giocare largo a sinistra nel 3-5-2 non è facile o sei veramente ambidestro puro altrimenti soffri è inevitabile quindi ci sta che Darmiano abbia avuto qualche difficoltà mi ha fatto molto piacere vedere in campo Bellanova che ha fatto un paio di sgroppate delle sue secondo me continuo a dire che è un giocatore che in certe partite magari quelle un po' bloccate dove fatichi a trovare l'uno contro uno lui è una risorsa per certi versi unica perché nella rosa dell'Inter di oggi gente che salta all'uomo ce n'è veramente pochissima forse davvero nessuno tranne Bellanova quindi io me lo aspetto soprattutto in partite dove magari ci sarà bisogno anche di sbloccarla quindi meno meno chiusa in anticipo tra virgolette e per il resto sono d'accordo sì tutti abbastanza bene su Di Marco ti dico sono d'accordo e allora per quanto è cresciuto Bastoni io penso che Bastoni anche lui avrebbe fatto molto bene anche lui è migliorato veramente tantissimo dal punto di vista offensivo queste partite come hai detto tu sono le partite dove se ti affidi a Di Marco puoi farlo senza grossi problemi poi il gol di testa da parte dell'attaccante che va a prenderlo volontariamente diciamo la verità può sempre arrivare perché è roba di un attimo è roba di un'azione sola quindi devi tenerlo in considerazione però se ci facciamo frenare da questo Di Marco non gioca mai perché in tutte le partite potenzialmente può succedere questo quindi secondo me ci sta chiaramente bisogna avere un occhio di riguardo in più proprio su questo quindi devrai in primis ma anche l'esterno sinistro chiunque sia dovrà fare attenzione nei casi in cui ha Di Marco alle spalle però è un giocatore valido io lo dico da da un anno e mezzo a questa parte sono d'accordo andiamo in chiusura di questa clip e andiamo in clima derby adesso dopo il pareggio del Milan col Sassuolo l'Inter supera in classifica il Milan in attesa poi delle altre partite e adesso si arriva comunque almeno nel clima giusto questa partita secondo me ci ha riportati nel giusto mood per affrontare il derby e speriamo di chiudere bene anche il mercato per poter affrontare al meglio questa partita molto molto importante perché abbiamo voglia di vendetta assolutamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando e poi vi lasciamo come sempre un altro video da recuperare qui per chi ci segue da YouTube